Devo dire tutto quello che ho scoperto, far crollare il castello, ci dobbiamo consegnare al nemico, rovesciare la piramide, i rapporti di classe, cambiare, 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 cambiare cultura, cambiare tutto, devo cambiare veramente. Todo modo, para buscare la volontà divina. Ah, e che cos'è la volontà divina? Non è anima e non è mente, non è immaginazione, né opinione, né ragione, né pensiero, non è numero, ordine, grandezza, piccolezza, uguaglianza, disuguaglianza! Non è viva e non è vita, non è spazio, materia, scienza, non è bontà, né verità, non è tenebre, né luce, non è errore, né verità. Io sono un politico, ho bisogno di indicazioni concrete. Tu sei un uomo come tutti gli altri, ami il potere? Sì, magmaticamente. Sei pronto a cederlo? Eh, e a chi? Non c'è nessuno meglio di me. Sai, io credo di avere una missione da compiere, sì. Hai le stigmate? Eh, sì, sì, a volte mi pare di vederle, sì, 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 Barbara, anche adesso, vedi? Sì, io non le vedo, tu sei come gli altri, segui il loro esempio e non fingere più. Eh, no, io non sono come gli altri, io sono diverso dagli altri, io non sono abito, io non sono arrogante, io non sono ipocrita, io sono una persona per bene, sono una persona onesta, non rubo io, non manco ai fatti io, non rubo io. No, ditelo, dimelo anche tu, per favore, che non sono come gli altri, dimmi che non sono... Tu sei come i tuoi elettori, cinico e feroce, segui il tuo mandato fino in fondo, tanto noi due cadremo assieme, tu, con i tuoi ricchi impostori che ti tengono al governo, solo per proteggerli dai poveri, io con il mio stupido greggio, innocente e peccatore, che aspetta da me solo il viatico per l'altro mondo. Tu non mi ami più? No, sei tu che non mi ami più, io lo so, i preti sono ingombranti. Confessami, per l'ultima volta, io ho la sensazione che non ci vedremo più. No, non potrei assolverti. No, tu devi assolvermi, devi assolvermi. Arrivassami. Pensa a ciò che rappresentiamo, non a ciò che siamo. Sei una beghina, piangi come una beghina. No, io... Io per continuare ho bisogno della tua soluzione. Cosa siamo noi senza voi? Voi senza noi? Loro! Non possumus. Allora, restituiscimi la lettera di Voltrano che ti sei tenuto. Mai di mia volontà. È una decisione grave, pensa di significati, ma urgente, vero? Allora, restituiscimi la lettera di Voltrano che ti sei tenuto, vero, 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 vero.